musica 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 che ci siamo? state lì? faccio una foto faccio una foto faccio una foto fate vedere lo sponsor davvero tre due uno io mia ciao ma Alessandra non c'è? Alessandra non c'è? bella ragazzi carico meno male stai oggi ragazzi benessi e signori cominciamo intanto i sorteggi dell'edizione di vediamo quando Pepe ha finito la smetti l'edizione di agosto torniamo sui calci di rigore stavolta siamo 12 squadre bene direi di una mano in noi cinti io cominciamo da Sasha la prima va qua indietro la prima squadra va qua vediamo guardiamo l'altra atletico atletico io almeno la carta chi era? a me la carta l'Atletico stamp andiamo a scendere tocca a me un altro biglietto chi è l'Atletico? non lo so L'ho già preso io, sì. No, Inter l'ho scritto. Che sei io? Atalanta. Atalanta. Chi è l'Inter? Chi l'ha già preso non può riprenderlo. Atleta, Lassone, Sofio, atletico. Io non l'ho preso. Dove a te? Una, eh. Atalanta, giusto? Dopo, andrò. Noi siamo Lisbona. 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 Io non l'ho mai lasciato. Juve, Juve, Juve. Ora tocca Andrea, pescari uno. Se pigli Lisbona, sei. Una stella, prendilo. Eh, lo prendi te e te lo fai aprire. Genova. Genova. Ecco, sotto la Juve. Un'altra pescata di qua? Una sola. Pescate, vai. Apri, leggi. Asciuga, ti vanno per la lesce verde perché così non la busta. Vediamo. Sì, pigli Lisbona. Ecco, no, no, no. Non pigliare Lisbona. No, no, ti prego. Non pigliare Lisbona. No, Lisbona. Cosa siamo? Tanto pescati. Lisbona. Come è Lisbona? Lisbona. Ho detto non pigliarla. Capri, a vedere. Barcellona. Barcellona. Voi? Sì. Ma chi ha la piazza? L'Atletico sei lì. No, noi siamo lì. Prossima squadra. Silenzio. Barcellona. Oh, silenzio. Bresletto. Barcellona. Un'altra pescata. Barcellona. Ma voi e te siamo la Roma. Allora, Barcellona andrà contro. Vediamo. Chi è la Juve? Inter. Inter. Chi è la Juve? Chi è la Juve? La passione fa che si perde a lei. È il prossimo. Silenzio un po'. Dopo vediamo tutto. Io, ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io. Io sono la Roma. Chelsea. Chelsea. Ma chi è che tu? Chelsea. Puoi venire anche dietro, Federica. Non so che ho più Chelsea. Ma siamo altri. Ringraziamo la Federica intanto il suo Instagram. Grazie. Metto Instagram. Vabbè, fa niente. E' 24. Roma. Non importa. Ma la violante contro di Roma. Ultima pescata. Ultime due. No, è Barcellona. Vai, leggimi il tuo prima. Andiamo qua. Noi. Barcellona siamo ieri in paola. Il Barcellona è la fine di comune. Real Madrid. Real Madrid. L'altra? Poi mettete l'altra per forza. Io PSG. 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 Ok, carte qui dentro. Non è il Cironi. Il Cironi. Non è come stretto. Allora, facciamo vedere al volo. Atalanta contro lì. Guardiamo come saranno i gironi. Allora, attenzione. L'Atletico. La vincente andrà contro l'Atalanta. Poi facciamo Juve-Genova. La vincente contro lo Sporting. Barcellona-Inter. La vincente contro il Chelsea. Roma-Real Madrid. Vincente contro il PSG. Va bene? Stefano, ma la vincente contro te. Grazie, tra pochissimo ci siamo. Noi sono Juve. Ma la vincente contro te. Chi è la Juve chi è? Allora, benvenuti nel canale. Sono Frank Mazzoni. Siamo qui oggi per portarvi sull'edizione di calci di rigore di agosto. Bella raga. Bella raga. Abbiamo già un attimo. Allora, siamo pronti con le squadre. Frank Mazzoni. Le squadre ve le abbiamo già fatte vedere tramite il sorteggi. Direi di cominciare subito con i calci di rigore. Prima squadra. Manchester United-Samp. Andiamo a cominciare. Manchester United-Samp. Dai. United, United. United che? Siamo contro il bambino. Tutti là dove ti stavo. Tutti il colore. Che è il Manchester United? Manchester United. Manchester United-Samp Doria. Samp Doria siete voi. Sveglia. Andate in campo. Manchester United-Samp. Manchester United-Samp. Manchester United-Samp. Siamo noi. E' Lago. Voi chi siete? Liverpool. Liverpool. Me le raccogli, me le butti dentro lì. Manchester 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 Manchester. Mancun ha perso già gli skips. Mancun ha perso già gli skips. Giorgio e Simone. Giorgio e Simone. Giorgio e Simone non vanno. Te lo giuro che fa? No, Simone. C'è gente che non gioca nella sterdine. Chi è Giorgio e Simone? Giorgio dai. Con chi gioca? Giorgio? Posso fare doppio? Simone. Simone. La mamma, la mamma Luca! Vuoi giocare? Vieni Facciamo i tagli Ma quanti ne fai? 3 rigori? 5 rigori 5 rigori una squadra, 5 rigori un'altra Non finisci più Eh? Lo lascio qui eh. Vedere? Allora, chi è che gioca prima? Manchester Sampo. E poi dopo? E poi dopo gioca Juve Genova, oppure gioca prima Ah, tutto. Oppure Inter Barca. Sì, Inter Barca. Lui con chi è bro? Chi è lui? Che vuoi? Ma mi ricordi di lui? Eh lui ci si vinse la finale due anni fa Ma l'anno scorso? L'anno scorso? L'anno scorso? O due anni fa? No, due anni fa Luca vuoi giocare? Ok, gioca lui, gioca lui Hai ragione, perché poi la seconda edizione non si giocò Dai, ti riprendo io e dopo te li ridò. Ricordati. Allora gioca lui Sei morti? L'anno scorso? L'anno scorso? L'anno scorso? L'anno scorso? Chi è vero? Ma sta registrando? Sì, punto. Se volete andare su YouTube andate là e vi seguite. Oh, vieni qui. Qui nessuno. Via. Via, via. Aspetta. Pepi. Ci siamo? Ok, ci sei. Va bene, 3, 2, 1, attiro. Veloci, io recupero il pallone. Vai. Dai. Qualcuno in acqua, magari. È lunga, eh? Aspetta. 3, 2, 1, attiro. Un altro. E poi io ne ho ancora fatto una volta. Non tirare una volta. Piazzala bene. Basta vincere. Questo è un mobili da noia. Ok. Sì, va bene, dai. Qui sono a Pepi. 3, 2, 1. Non toccare lì, eh. Al tiro. Buca la mano. Buca la mano. Attenzione. Qualcosa? Ci sono i sui luri nel piede. Non toccare lì. Non ci prego, voi go. Allora, in caso di parata e col avversario siete stati eliminati. Danilo, toccateli. Toccateli. Terzo tiro. Toccateli. Se la para cosa succede? Devi fare un altro tiro per se. Ok. Ok. Terzo tiro, sì. Attiro. Toccateli. 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 Vai. 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 In cazzo di gol. Passano. Scolta, scolta. Non puoi bagnare la sabbia. Ti sai, eh, che non devi toccare la toretta, eh. Samp, Atalanta. Tiro, Samp. Al tiro. Vediamo se passa. Matteo, non appoggiarti, non appoggiarti. Ok, passa Sampdoria. A tra poco. Barcellona, Real Madrid. Matteo, 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 passo avanti. Ricorda, buona così. Vieni qui voi tre, i grandi ci possono stare, o no? Vada all'ombra, o sennò controlli che non toccano niente. Due passi indietro loro. Ok, Juve e Genova. Abbiamo la Genova. A tiro. È uguale, tira. Due. Vestiamo nella rotta. Bravo! 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 Vieni bene. È l'unione, ma io non ce l'avevo. Sì. Vieni bene. Vieni bene. Vieni bene. Tanto dopo, quando mi si blocca, facciamo nel tempo per la patta. In che bava? Ok. Fatti il controllo, grazie. Grazie, Mix. Mix, vuoi passare di qui? Eh? Fa troppo piano il tiro. Passa la mano, fai le giuste, no? Ok? Giacomo, concentrati. A tiro. È ancora 1-0 momentaneamente, vediamo. Secondo tiro per il Genova. Un po' quello che ha parato però in campo. Genova! 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 Proprio lì, proprio lì è andato. L'attento te l'ha bloccato ste. Sta ballando. Genova! Scusa! Matteo! Matteo! Passo avanti, Matteo! Passo avanti! Bravo! Guarda! Bravo! Bravo! Ehi! Ancora 1-0 Genova. Secondo tiro. Juve. Con due stili secchi. No! Zero-zero! Ho capito. Tutto a zero per adesso. Tutto a zero per adesso. Chi l'ha fatto? Ne ha parati due Matteo. Matteo ne ha parati due. Giacomo l'ha sbagliato. Secondo tiro. Dai Giacomo. Scusami. Bravo! Basta in vantaggio la Juventus. Attenzione. È un classico. 1-0. Matteo! Terzo tiro Genova! Non siete bravi voi. È il nome che portatevi. Matteo! Non toccatichi eh! Non toccate qua eh! Non toccate qua eh! Non toccate qua eh! Non toccate qua eh! Terzo tiro Genova! 1-0 Juventus! Matteo! Guardalo! Guarda il pallone! Concentrati! Vieni davanti! Tu! Mi sembra troppo impegnata perché è così! Che hai fatto? Che consigli? Ma che lo sai? Ha fatto gol? Ok. Allora 1-1. Devi dare tu lo start. Siamo pronti? Non toccate lì eh! Al tiro! Uno pari. Questo è il suo terzo tiro? Si! Ok. Ora quarto tiro Genova, giusto? Sì! Quarto tiro Genova, 1-1. Matteo! 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 Jacopo! Due due! Qua Massimo, lui che è grande sta! Lo è andato? SE QUANTE VOCE! Vediamo che tira. Quando che tira? Io che mi tiro il grande vado io. Se Ed è coltino piccolo penne. Dai· Chi si vive? Si vediamo! Nel mio assistito di imp нравится questo tipoотto è benissimo. Quanto tiro per il Genova! Forza... GOL! Che culo! Quarto tiro per la Juve Giacomo concentrati Tira di potenza Giacomo dritto di potenza Andava fuori Concentrati 3-2-1 Vai Bravo Genoa Allora dov'è? Ti tocca? Se segni hai visto Adesso si concentra Matteo Fai un passo avanti Matteo Non stare sulla riga Quinto tiro a Genoa Tira a destra Se segnano Passa 3-1 A dire Passa al Geno Sporting Lisbona Liverpool Lisbona Liverpool Ok Sporting Lisbona come ti chiami? Mattia Altro portiere Lui c'è Lì c'è con la De Gabri Se con lui Vagliato 3-1 A tiro Gol 1-0 Sporting allora qui solo i grandi piccoli no la signora può stare 3 2 1 al tiro ma basta la porta come la porta è normale quindi giorgio con chi gioca 2 a 0 per lo sporting terzo tiro secondo allora se segna questo passa lo sporting terzo tiro 2 a 0 vediamo se fa gol al tiro prossima partita barcellona inter barcellona inter ok ci siamo barcellona inter forza al tiro barcellona ammazzate il tiro e ora vinciamo i due figli che sono l'importo abbiamo il giovane Paolo come si chiama? Paolo Paolo da Seregno? S3 Meda Sascha 3-1 a tiro Diego Forza Barcello, forza Barcellona Secondo tiro A tiro E' piazzato, è piazzato Vai Bravo Bravi Assù, alle canoe Aspetta, ora blocco il video Scusate, non per me vizia a farla Ma vattene a prendere A tiro Sascha Dai Sascha Dai Sascha Dai Sascha Colpo d'aria Colpo d'aria Fatto mare Andiamo a prendere Stiamo a tirare la palla che non è possibile Più potente che vuoi Più potente che vuoi Più potente che vuoi Più potente che vuoi Dai avanti Piazzala, piazzala Piazzala Andiamo avanti Dai, dai Baccellona conduce per 1 a 0 Piazzala 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 Codani qualche consiglio A quelli che vuoi fare il portiere Eh? Dopo tanti Dopo vi lascio la porta Fate dei tiri Sì Vedete primi Per il ritmo Quarto tiro Barcellona Vediamo Mettila bene Che è nella buca Mettila bene Mettila bene Che è nella buca Bella Bella Ok Zero Gabri Gabri Mettila bene Che è nella buca Se non l'ascolti Dai Sasha Mi ha messo un po' di sabbia Lui Forza Barcellona Vai Sasha Vai Gab Vai Sasha Al tiro Vai Ma cosa fai Anche lui Barcellona Assegna E' vinto Ma ma Non devi consiglia Quello lì Che Spicer Riparare Il barcellona Che ha fatto Il primo Ah lui No lui Gab Vieni qua Vieni qua Vieni qualcosa Lugio Canello Gli faccio gol Ciao Prende uno Non è tiro Basso Basso Forza vera Vedugio Bravo Bravo Bello Andorale Vai Gabri Inter Eliminata Barcellona fa L'Inter Ce la fa Roma Real Madrid Le grandi se ne vanno Aspetta Roma Real Madrid Puoi tirare o vuoi fare il portiere Ritira ritira Te la devi riparare La devi riparare Roma Real Madrid Al tiro Scacatua Scacatua Va bene Brava Non ero dimenticato di accendere il tiro Va bene Va bene Scacatua Adesso è malcino Aspetta Marco Roma Real Madrid Al tiro Oh laiaiaa Oh laiaiaa Che tiro Ma fai i piedi ragazzi Portami un telefonino Secondo tiro della Roma A tiro Parata Parata di perca Bravo Paolo Vai Marco teso e basso A tiro Concentro teso e basso Sto dicendo che c'è anche un osservatore della Cremonesi Calci Tieni Secondo o terzo Terzo tiro Roma A tiro 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 Quarto tiro Quarto tiro della Madrid 1 a 1 A tiro A tiro Minato a Roma A tiro 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 Siete da un'altra parte voi due che vi si sente tutti i vostri discorsi Voi vedere vinti Ok 24 euro di premio continuiamo Vintiquattro euro al vincitore eh Siamo pronti? Siamo pronti A tiro 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 Enrico Rasengan 10 volte più poter Naruto sblocca il Rasengan tutto arancione più avanti Scusate Poserti parlare di Yu-Gi-Oh nel mio canale? No no taruto Naruto il posto 2002 lo conoscete PSN sapete già chi è un esperto dei rigori 321 Sampdoria al tiro no 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 questa era l'Atalanta l'ha già fatta tantissimo l'ha già fatta tantissimo Sampdoria l'Atalanta è il gioco 0 a 0 dai il tiro dell'Atalanta ok andiamo al tiro ok siamo ancora pronti con l'Atalanta al tiro bravo avanzato avanzato in parte avanzato dobbiamo ribattere Martino deve ribattere ribattiamo perché il portiere è avanzato l'avete visto tu ribattiamo che il portiere è avanzato il portiere rimane sulla linea Martino ribattiamo perché sei avanzato quanto manca alla fine qua sentiamo cosa da dire quanto manca alla fine lo so che dice io vorrei dormire ma vuole dormire lei sta lavorando ma io non voglio lavorare io sono romanista però qua tra contetto il nostro posto che sta scopinendo questo video chi è il posto? è il posto è una signora scherzavo 3,2,1 al tiro oh guarda il portiere però il portiere va bene va bene va bene va bene a tiro avanti e giustizia sia e loro giocano in casa giocano in casa sono simulati ma questo è ancora quante ci sono io no ma che tu è re è stato è stato fai unico giro ma già quando la sera hanno detto che ha avanzato no ora poche robe basta che non ci gioco guarda di cannone 3,2,1 a tiro gollo va bene va bene Atalanta conduce per 1-0 attenzione Gabriel parate sto tiro 3,2,1 per posto al tiro papi te la basta la tengo basta ma si alza la squadra di casa la vedo male però anche l'Atalanta è squadra di casa vediamo guardate una del bagneron che avanti continua ad andare avanti siamo al quarto tiro per la Sampdoria io so quattro tiro Atalanta quattro tiro Atalanta questo è il quattro non è che va fuori porta ok 3,2,1 al tiro si Elia vai fuori 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 Genoa Sporting dov'è cerca i capi siamo al quarto tiro te lo faccio con la Sampdoria te lo fai Parigi 1-0 1-0 per lui se lo sbaglia se lo sbaglia sono fuori 1-1 quarto tiro Atalanta oh ma qualcuno in acqua che recupera i palloni acceleriamo tipo chi lo sta giocando regale implicato quattro volte siamo 1-1 adesso il quarto tiro dell'Atalanta vediamo dai attenzione Atalanta si prepara al suo no 1-1 questo è il quinto chi ha tirato per primo di voi lui allora il quinto tiro Atalanta 1-1 quinto tiro dai dai Giacomo sì allora se segna la Sampdoria tutto nei piedi di Pepozzo Pepozzo vuoi dire qualcosa per tirare sembra Francesco Totti e i mondiali Francesco Totti e i mondiali siete d'accordo attenzione e via vieni qua se sempre fa gol passate cosa hai da dire dai vicino dai fuori ce la puoi fare dimostra a tutti che non sei ritardato è sempre tirato bene tirerai per sempre bene anche questo tiro non si sa cosa farai ma spero la morte è quella Martino da Parma direi di andare al tiro 1-2-3 al tiro e non mi lasciare così come un coglione devo ragionare e cazzo sì signore signore ok prossima Real Madrid no Genoa Sporting Lisbona Genoa Sporting Lisbona a tra poco ok ci siamo Sporting Lisbona 3-2-1 sei troppo avanti 3-2-1 a tiro viazzato 1-0 controllo io controllo io vai Gabriel vai Gabriel vai Gabriel 3-2-1 Genoa a tiro ottimo piazzato perfetto qui abbiamo due bei tiratori qui ci vuole i porteri che fanno un po' il miracolo questo è un bravo a tirare ok ci siamo 1-1 secondo tiro Sporting ascolta vado a fare una cosa 60 fino a 5 certo qui lasciamo chiamano la vecchietta se questo va bene va bene grazie ciao 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 sono simpaticone 3-2-1 tiro grazie ancora ok secondo tiro Genoa ce la farà no vediamo due splendide sirenette si avventurano verso l'acqua ma che sbalene siamo passati prima e vini Genoa al tiro però avete visto della piazzata sezione dello Sporting può inserire la marcia superare senza andare in prima voluto vediamo terzo tiro del Genoa al tiro del Genoa grazie se segna lo Sporting hanno vinto ci vuole la super parata dietro no non è ancora il momento e la finale è la finale e la sepini no ora dove sei stiamo 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 chiedendo ferma chi city tenati legale ginocchia tutti con Edo, tutti con Edo, tutti con Edo bagnaronchi, tutti con Edo Genova Sporting se segna, passa da Sporting a tiro non è ancora non è ancora allora per come siamo messi non deve sbagliare neanche il tiro basta una parata e lo mandi a casa te invece devi segnare meno due gol ok, 3-1 Genova al tiro e se ne vado sì peccato, peccato eliminato il Genova non ci credo ok, prossime squadre Barcellona-Celsi 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 a tra poco vediamo chi va in semifinale Barcellona-Celsi ci siamo, batte Barcellona e lo pavamo lo pavamo questo è la rica vuoi stare in questo rica si va bene si tiro del Barcellona-Celsi Celsi-Celsi a tiro vai vamo 3-2-1 Barcellona-Celsi a tiro vediamo c'è la linea Capri con il buco noi dobbiamo finirla 3-2-1 al tiro è il tiro del Chelsea secondo tiro Chelsea 3, 2, 1 al tiro oh, siete i semi-finale assaggiamo la finale come sempre e poi mangiamocelo mi raccomando stavolta portate la vittoria al bagno rucchio allora siamo pronti Barcellona al tiro bravo guarda è forte tutto va bene, mi sembra ma sì troppo avanti c'è qualcosa di dietro eh, c'è qualcosa di dietro nel Chelsea chi è? terzo tiro Chelsea 3, 2, 1 al tiro forza Chelsea siamo 1-1 terzo tiro Barcellona 3, 2, 1 al tiro questo qua ve l'ho messo guarda è andato troppo siiii si è andato troppo 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 si ma ora si è andato troppo ma te devi stare così salute dai li saliti allora quarto tiro Chelsea vediamo sono amici loro però oggi sono nemici devono combattere 3, 1 al tiro Chelsea guarda li tirano e vabbè è bello 3, 2, 1 solo che la piglia così minchia figlio dai quarto tiro Barcellona se vinciamo attacchiamo l'inna della Sant'Ordia 3, 2, 1 Barcellona alzi eravamo in Napoli attacchiamo quello del Napoli alzi siiii ancora 1-1 siiii quinto tiro potremmo chiudere qua vediamo vediamo chiuderà qua chiudici ma cosa è il più famoso è quello della Roma il più famoso è mea vado siiii quinto tiro Chelsea al tiro a me come c'è altro bar c'è la barra 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 guarda che barra è fuori è passato sopra ok barra vi faccio vedere la barra ecco in 3 secondi vedrete il replay ora ecco come avevo detto non era gol l'avevate visto c'è il bar innamorati barra barra no gol no gol capriela barcellona questo tiro se fa gol capriela capriela stiamo a tirapalla capriela 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 se segna passa il barcellona dai non è che andiamo a un'altra sascia giù le mani guarda mi hai mostrato tutto vai via di qui subito cammina voi cambiate posto al tiro barcellona vediamo se passa vabbè dai barcellona passa tra poco ragazzi siamo barcellona abbiamo anche la sofi una delle poche ragazze che ci aiuta nei giochi grazie sofi 3 2 1 bsg al tiro brava non era male brava brava marcellona al tiro 3 1 ora ci mette la ferma ragazzi mi lasciate libero tutto quello che dite si sente siete vicini ok soffia il tiro per il psg 3 2 1 a tiro ma c'è Marco 3 2 1 Marco a tiro bello spettacolo ok ci siamo real madrid al suo terzo tiro 3 2 1 a tiro vediamo che segna mi sa che porta a casa la situazione vediamo 3 2 1 a tiro quarto tiro per il real madrid vedete per chi dice se fare il bagnino invece di cosare maglietta a rovescio non sto lavorando oggi il mio collega è la lavora tu grazie la maglietta rovescio da sto giorno potrebbe essere il gol decisivo se papà la parra passano tutti un'altra firma vuoi dire qualcosa prima se segni così se sbaglia è fuori segna o strano è fuori segna o strano e si passa con un gol di una ragazzina grandissima sera passa il psg a troppo siamo contro grazie a tutti grazie a tutti